25 luglio 2019 calignaia oggi era una splendida giornata di mare tanto sole un cardo che picchiava a bestia l'acqua era bella fresca ci si stava proprio bene una splendida giornata di mare con qualche medusina sia a livelli a cavorfiore innocue quanto quelle rosse a cipolla molto molto pericolosa oggi parleremo delle tre strade che conducono alla spiaggia di calignaia cioè la vecchia strada della statale aurelia quanto la vecchia strada romana e un viottolino che poi vi dirò quando vedete il mare scendete le scale quando le scale sono terminate invece di svoltare a destra per stare sul fianco destro della baia di calignaia svoltate a sinistra e infrascatevi in un viottolino stretto e piccino molto roccioso e poi particolarmente difficile da scendere verso la spiaggia dove è possibile raggiungerla solamente stando a sedere e se si hanno delle scarpe da tennis è possibile fare delle brutte cadute sbattendo la testa e rimanendoci anche stecchiti ma se uno ha le scarpe praticamente da tennis le mani libere e scende di culo stando a sedere piano piano la osa non è difficile ma non è particolarmente insormontabile la vecchia strada dell'aurelia che conduce sino alla spiaggia di calignaia si raggiunge passando il ponte andando in direzione verso sud e poi svoltando alla sinistra del ponte dove c'è subito appena termina il ponte sulla sinistra c'è una strada sterrata corre seguirla è abbastanza in buone condizioni segue il vecchio tracciato dell'aurelia si passa da una cava che è quella da cui hanno estratto i massi per la costruzione del ponte nell'anni 50 60 e poi successivamente la strada continua sino alla spiaggia ovviamente le macchine non possono raggiungere la spiaggia perché poi il percorso è accidentato però diciamo lungo la cava potete eventualmente parcheggiare la macchina è una strada diciamo stretta sterrata molto tortuosa perché affronta il dislivello in modo dolce e quindi vi conseguenza c'è parecchio da percorrere per raggiungere la spiaggia l'ultima strada è la vecchia strada romana una volta che avete trovato il cartello sotto l'albergo per calignaia seguite praticamente il viottolo e quando a un certo punto dopo poco troverete alla vostra destra delle scale non girate a destra e non prendete le scale ma continuate sempre dritti seguendo il percorso del tortuoso viottolo che poi vi sfocerà in una vecchia strada romana e poi vi porterà dritti in spiaggia sotto il ponte ciao alla prossima ciao 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 ciao